Vanno quelli della Quinta a Napoli, il premio è festione, prova abbinata alla seconda Triss, in pista soggetti di tre anni sulla distanza, i 2100 metri sono in dieci, in prima fila Francesina Hors, Follia B, Frank Dino, Forum Weisel e Faberge Regal, Festival Sun, Farondor, Freud, seconda fila per Faramirra S e Fiero Dark. Follia B è la più sollecita alla via, Frank Dino e Faberge Regal la insidiano, l'errore del favorito Forum Weisel, Faberge Regal aggira Frank Dino, fa su Follia B, primi 200 metri ultimati in 14,4, errore anche di Faramirra S, insiste Faberge Regal su Follia B e sembra poter ottenere il via libera, primo quarto ultimato in 28,9, Faberge Regal, Follia B, Francesina Hors, Frank Dino, Festival Sun, poi chiudono i due Sauri, Fiero Dark e Farondor, 600 considerevoli in 44 secchi, inizia la risalita a Fiero Dark trascinandosi sia Farondor che Freud, chiude il rimesso Faramirra S, si viaggia costantemente sul piede dell'1,15 con la saura da telecomando K a dettare i ritmi, un altro sauro si avvicina a largo e la sagoma di Fiero Dark. primi millimetri in 1,15, Faberge Regal affiancata da Fiero Dark, poi Follia B lungo lo steccato, Farondor in seconda pariglia, Freud in terza, curva percorsa in 15,5, adesso Faberge Regal deve essere sollecitata, Faraondor la impegna. Ultimo paletto in 14,7, risponde bene alle sollecitazioni del suo interprete Faberge Regal, persevera al largo Fiero Dark, poi Follia B e Farondor che muove in terza ruota e lancia lo spunto. Miglio in 1,59,3. Farondor è incisivo a centropista e sospinge Fiero Dark sulla leader. Retta d'arrivo, Farondor a centropista sta prendendola meglio su Fiero Dark e Faberge Regal, tre Sauri a lottare, Farondor in vantaggio, Fiero Dark ci prova ma Farondor va a vincere su Fiero Dark e Faberge Regal. Ritorno al successo di Farondor, sfortunato di recente, oggi agisce dalla seconda pariglia, dalla terza e viene a prendere la meglio in retta d'arrivo a media considerevole di 1,13,9 sul doppio chilometro. Alla grande l'allievo di Gennaro Riccio, un figlio di Ulmo Holtz e Tiziana Griff, di cui Gennaro Riccio è anche proprietario oltre che allenatore. Torna a correre alla grande Fiero Dark, gran bella performance, sempre all'esterno scoperto. Faberge Regal è terzo, delude, follia B.